Questa è Firenze, la città in cui produciamo a mano la nostra maglieria di lusso. Secondo la tradizione italiana, la maglieria di lusso è stata prodotta per diverse generazioni a Firenze. L'antica capitale degli abiti di alta qualità. Artigiani esperti usano macchinari all'avanguardia per creare tessuti morbidi, davvero unici. Creare i tessuti migliori è un processo delicato, che necessita di ottimi materiali, maestria e attenzione al dettaglio. Maglieria di alta qualità. Questa è Crumerino. Made in Italy